Il consorzio di bonifica va riportato nei binari nel quale era stato concepito e questa riforma si incentra sull'abolizione della ingiusta e illegittima tassa di bonifica. 150.000 marchigiani ricevono dei bollettini, come stanno ricevendo in questi giorni, dove gli si chiede di pagare una tassa di bonifica a fronte di lavori che nella stragrande maggior parte dei casi non sono stati mai fatti. Quindi va riformato questo tipo di tassazione e adesso la mia proposta di legge approderà in commissione per poi passare in aula. Invito tutti i cittadini, specialmente chi riceve il bollettino con la tassa di bonifica, a sostenere questa mia iniziativa legislativa, a fare le dovute pressioni ai propri rappresentanti istituzionali, politici e verso le associazioni di categoria.